Zoff e Burnic, figli della stessa terra, figli di una nazionale di un calcio d'anni addietro che avrebbe potuto benissimo specchiarsi oggi nei primi 45 minuti. La Juve d'emergenza, senza Bonetti, Bruno e Napoli, incassa in 20 minuti due reti da altrettanti difensori grigiorossi. Citterio e Gualco. Il libero accarezza di testa il corner di Chiorri al settimo minuto. Il tempo di, in uno stadio dal tifo contrastato, riportare la rabbia di Schillaci. Ed ecco che Chiorri, Dezotti e Gualco, controllore di Barros, confezionano al diciannovesimo una rete d'applausi. La numero 18 subita in 14 partite dalla Juventus, una rete da giramenti di pallone, come dice fuori microfono Tacconi. E Zoff sottoscrive? Beh, se sono girato a lui ti immagini a me. Sarebbe gara di incorniciare vittoria storica per i Lombardi. L'avversario, Rabberciato e Molliccio, gioca ora, sembrerà un paradosso più sollevato. Alenicov in regia e Zavarov sulla tre quarti creano varchi intelligenti. Alessio, è la mezz'ora, alza il periscopio e pesca Rampulla fuori dai pali. È il trionfo dei riservisti. Quattro minuti più tardi il trio di Agostini, Zavarov, Schillaci, fa sorridere Zoff ed il nucleo del tifo bianconero. Da un'altra angolazione si evidenzia la velocità dell'esecuzione. Restabilite le parti, Barros, che fatica più degli altri a guadagnarsi la posizione in campo, viene affrontato da Citterio in area. Delia non dà peso. Altro scontro fortuito fra Galia e Chiorri. Trauma cranico, leggero, per il giocatore della Cremonese che viene trasportato in ospedale, ma non ci sono conseguenze. Al suo posto entra Neffa, talent scout Boniperti. Lui lascia lo Zini. Azzeglio Vicini rimane. Credo che lei sia anche qui per vedere da vicino ancora una volta questo ragazzo, questo schillaccio, no? Ma questo lo dite sempre voi altri. Io sono qui per vedere le partite dove ci sono molti giocatori bravi, dove c'è anche schillaci. Ma non è che una partita è nel bene o nel male sposta dei giudizi sui giocatori. Oggi è arrivata a Roma la Coppa del Mondo. Speriamo ci rimanga lungo. De Zotti riscopre la faccia dura di Brio. Piccioni fatica ad imbrigliare un lucido Zavarov. Marocchi ed Alessio, davvero bravo sulla destra, costringono Rampulla e compagni a comportarsi da Cremonese. Cioè a subire la maggior tecnica e velocità dei bianconeri. Delia distribuisce doverosi cartellini gialli. Rampulla invece vola sulle conclusioni di Alenikov e di Fortunato allo scadere. Nella gara di ipnotismo fra Neffa, lanciatosi perfettamente in contropiede, e Tacconi, vince quest'ultimo. Eppure Boniperti. Ma andate a leggere sul sorriso di Rampulla. Perché a Cremona tutto è bene quel che finisce. Noi qui siamo in un'oasio di tranquillità e qualsiasi risultato viene preso come viene. Poi si prende un punto alla Juve. Sì, un punto alla Juve è bene, un punto al Napoli, la vittoria col Mila, insomma, tutto bello. L'Ukillaci è in zona azzurra. Ma io cerco di fare bene alla Juve, poi alla fine ci penserà i vicini. Era una Juve d'emergenza, si diceva dietro, forse lei ha voluto che la squadra stesse 30 metri più avanti proprio per questo. Ma no, diciamo noi avevamo alcune assenze dietro, questo è vero, però la squadra si muove sempre su questi binari. Mercoledì vi attende questo impegno europeo, è tranquillo alla luce di quanto è successo oggi? Ma il calcio non fa rimanere mai tranquilli. Noi abbiamo un risultato che ci dà un certo vantaggio, però certamente dobbiamo andare a conquistarcelo lì, il passaggio del turno. E non sarà facile, io mi auguro che le condizioni ambientali siano buone e quindi andiamo a giocarcela con determinazione.